Musica Un omaggio ad Angelo Vegni, colo il quale ha permesso all'Istituto delle Capezzine di nascere. La presentazione di un libro e la visita guidata al campus sono solo alcuni dei momenti clou del tredicesimo raduno generale degli ex allievi della scuola cortonese. Grande festa al campus Vegni, un campus nel cuore della Valdichiana, la scuola, il convitto, il parco, l'azienda angrearia, gli impianti sportivi, un punto di riferimento importante per il territorio dove formiamo ragazzi e ragazze nel campo agroalimentare. Oggi grande festa, 250 persone tra ex studenti ma persone anche molto molto grandi per celebrare Angelo Vegni, questa grande intuizione che ha portato un faro importante dell'agroalimentare nel nostro territorio. E quindi un bel modo per iniziare l'estate e per essere punto di riferimento per il territorio. L'evoluzione della nostra scuola negli anni chiaramente è stata al passo con i tempi, sono stati aperti altri indirizzi di studio ma è rimasta sempre fedele a quella che era l'idea del nostro fondatore, quello di istituire una scuola che potesse dare un futuro ai giovani. Io faccio parte di quei giovani in qualità di ex studenti e penso che la più grande soddisfazione oggi è qui ad accogliere oltre 230 persone in questo raduno degli ex studenti e amici del Vegni che sono tornati di nuovo qua nella loro scuola, nella nostra scuola, a visitarla e la trovano cambiata, sì, migliorata, di spazi esterni tutti curati, nuovi laboratori, serre nuove. Quindi per noi ex alunni del Vegni è veramente un vanto tornare qui all'istituto Vegni in occasione del tredicesimo raduno e ritrovare amici, professori e compagni di un percorso di vita. Certamente una grande intuizione, Angelo che era nato nel 1811 faceva parte di quella generazione di toscani che avendo studiato anche all'estero, prima a Parigi all'Ecole des Minnes e poi in Inghilterra, hanno riportato la scienza, la nuova tecnologia in Toscana e aveva una grande passione per la scienza. Quando, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, dopo l'Unità d'Italia, si è trovato a guardare al futuro delle sue proprietà, di quello che aveva costruito, comprese le officine Galileo per esempio, decise di donare tutto a questa scuola, proprio quello che lui chiamava il figlio che non morirà mai e in un certo senso ha permesso a questo suo lavoro nel mondo della scienza, dell'ingegneria, di applicarsi inizialmente all'agricoltura, quindi con la scuola agraria e combinare quindi la scienza con il mondo dell'agricoltura alla fine dell'Ottocento, con una scuola che ha continuato a generare, ad educare persone che hanno lavorato in Italia e nel mondo portando il suo nome in un certo senso.